Si chiama Amadou Gillen, è un uomo originario di Taubridge in Inghilterra, il quale durante la sua pausa pranzo dal lavoro pensate che ha vinto la bellezza di 5 milioni di euro, malgrate vinci, non è di certo poco. Nonostante la cospicua vincita, però Amadou avrebbe deciso di tornare al lavoro e di finire il suo turno come se niente fosse, onorando fino alla fine il suo compito, quello di lavorare. Appena ho visto quei numeri apparire nei gratte vinci, ero così eccitato, avrebbe ammesso Amadou, il quale avrebbe aggiunto, dopo aver festeggiato mi sono rimesso il biglietto in tasca e sono tornato al lavoro per fine mio turno. Mi ricordo che l'uomo è un padre di due figlie, vuole adesso comprare una macchina nuova comoda per tutta la famiglia e avrebbe detto a tal proposito, ho intenzione di acquistare una Peugeot, non una Ferrari o una Porsche, insomma un uomo di basse venute. Comprevedete dunque ad Amadou, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.